Nel programma sparisce la quota, si parlerà di flat tax in termini generici, è così? Sì, è così, nel senso che la flat tax non da oggi, per quello che ci riguarda dal 1994, perché fu con il professor Martino che il presidente Berlusconi lavorò ad un primo modulo di flat tax, quindi stiamo parlando di quasi 30 anni fa. E poi la Lega dall'altra parte, però entrambi riteniamo che questa sia la strada corretta da prendere per risolvere una serie di problemi strutturali che abbiamo nel rapporto naturalmente tra il Sato e il Q2. La sparizione di una quota unica è dovuta al fatto che già ieri qualcuno ha fatto un calcolo sulla flat tax al 15%, più o meno 50-60 miliardi all'anno, dunque quasi irrealizzabile? Noi abbiamo dei calcoli fatti sulla nostra proposta, che è quella del 23%, che è sempre stata la nostra proposta. Dico sempre perché siccome vedo tanta improvvisazione nel dibattito politico, e sono contenta che si possa parlare del programma di Forza Italia in attesa di capire cosa farà la sinistra, perché non ho capito come si presenteranno, però noi abbiamo un calcolo di un costo di circa 40 miliardi di euro con l'aliquota dal 23%, ovviamente stiamo parlando però di un percorso progressivo, e quindi è ovvio che dobbiamo calcolare i tempi. Qual è il nostro ragionamento? Il nostro ragionamento è che se riuscissimo a rendere virtuoso il rapporto, oggi lo Stato prende circa 450 miliardi di euro di tasse, c'è un sommerso stimato di circa 110 miliardi di euro. Allora se noi riuscissimo a rendere virtuoso il rapporto tra il contribuente e il fisco, chiaramente rendendo non più una punizione per pagare le tasse che da tanti sono percepite come troppo alte, inevitabilmente riemergerebbe il sommerso, inevitabilmente questo genererebbe denaro nella nostra economia, questo porterebbe naturalmente a maggiori entrate nelle tasse dello Stato, e quindi si creerebbe dopo decenni un meccanismo virtuoso, anziché un meccanismo perverso. Questa è la nostra scommessa, questo è quello su cui noi lavoriamo da 28 anni, quindi speriamo che gli elettori, come dicono i sondaggi, ci possano riconoscere questo impegno, e dal 25 settembre ci vorremmo mettere al lavoro. Chiedo subito un fact checking ai nostri economisti in studio, parte dal direttore Napoletano. Abbiamo sentito diverse ipotesi di flat tax, mi fisso su questo punto, dove che...